Questa è la regione che ha portato a casa, rispetto a tutte le altre regioni virtuose, per la prima volta il bilancio di assestamento il 28 di giugno. La regione Lombardia, così virtuosa, lo ha portato il 9 di luglio. E anche lì, lo ricorderete come lo ricordo io, il giorno dopo i titoli non erano il Lazio a prova per prima, essendo regione ad armonizzazione il bilancio, ma uscì una lite per un emendamento. Allora a che serve tanto impegno, tanto lavoro se poi non si riesce a comunicare nulla agli elettori che ci hanno portato qui, a quelli che ci guardano anche se non ci hanno votato, non serve a niente.